E' un appello che sembra un po' una strigliata preventiva. Sono certa che avremo tutti al loro posto per fare l'esame di Stato, dichiara la ministra Lucia Azzolina, preoccupata per la riuscita della maturità 2020 e avviato un monitoraggio della situazione dei commissari per l'esame. Gli uffici regionali non sono ancora riusciti a nominare tutti i presidenti perché anche a dieci giorni dalla scadenza per le candidature mancano aspiranti. Ma afferma che l'Italia sta ripartendo e il 17 giugno, a meno di una curva epidemiologica con contagi che salgono, gli studenti hanno diritto a fare gli esami in presenza e la scuola non si sottrarrà al proprio dovere. Anche gli esami di Stato partiranno il 17 giugno eliminando le prove scritte ma aggiungendo un colloquio orale di durata 60 minuti che sarà diviso in due fasi. L'alunno in sede d'esame dovrà esporre un elaborato sulle discipline ad indirizzo che gli studenti concorderanno con i propri docenti e la seconda è la discussione di un testo studiato nell'ultimo anno in classe con dei materiali preparati dalla Commissione che verranno assegnati dalla Commissione agli studenti sul resto delle discipline. Lo studente parlerà delle esperienze fatte a scuola per quanto riguarda l'alternanza scuola lavoro e in più parlerà di costituzione e cittadinanza. Infatti proprio in questa piccola parte tutti gli alunni avranno il diritto di parlare dell'esperienza vissuta a causa del coronavirus in sede d'esame.